Andrea Petagna, è proprio il caso di dirlo, abbracciato calorosamente dai tifosi nerazzurri, un vero e proprio bagno di folla per te. Sì, è stato bellissimo, infatti ringrazio tutti i ragazzi, tutti i tifosi, i genitori che hanno portato i bambini qui, è stata una bella esperienza, sono contento di magari averli resi felici con una foto, un autografo, comunque fa sempre piacere perché comunque veniamo da una partita persa malamente e quindi questo calore dei tifosi ci fa solo che bene. Quanto è importante? Ce n'erano 2000 a San Siro a vedervi, vi hanno comunque incitato fino alla fine della partita, ce n'erano 1000 ad attendervi a Zingonia e anche allo store è stato veramente tantissima gente. Quanto è importante per voi? I nostri tifosi sono veramente fantastici, ci hanno trascinato fino a qui perché comunque se abbiamo ottenuto tutti questi bellissimi risultati anche grazie a loro, grazie al loro sostegno perché comunque ci danno una forte carica, quindi speriamo di regalargli questo sogno che è un sogno anche per noi e di continuare su questa strada che fa bene a noi e fa bene l'Atalanta. Ecco, il sogno passa attraverso il prossimo impegno, quello più imminente contro il Pescara, partita contro l'ultima in classifica, ma? Ma è una partita difficile come è stata quella con il Crotone in casa e con l'Empoli in casa, sono partite che finché non le sblocchi sono in difficoltà perché sono squadre che si chiudono e poi ripartono, sono molto veloci in attacco, ho un attore che predilige l'attacco quindi dovremo stare attenti, però penso che se faremo il nostro gioco saremo cattivi al punto giusto la porteremo a casa e la vittoria.